Voi avete il potere e non ponete limiti al vostro potere e al peccato. Ma quanto tempo credete che vi rimanga? Se ciò che si è rubato agli altri può essere restituito e non viene restituito, la confessione per questo peccato non è valida. Il peccato può essere perdonato solo se il mal tolto viene restituito. Non c'è salvezza senza la restituzione del mal tolto. Denaro, crediti, fiducia, cariche. Il potere stesso. Dunque il mal tolto va restituito. Dunque il mal tolto viene restituito.